Oltre 700 atleti arriveranno in città per il secondo cross Città di Arezzo. La gara polistica organizzata dall'associazione Freerunners è in programma per domenica 18 febbraio, con partenza ed arrivo dal parcheggio Pietri. Quest'anno abbiamo i campionati toscani di staffette di cross, quindi l'atletica è normalmente uno sport individuale e le staffette sono il momento in cui invece diventa di gruppo e quindi si svilupperanno che se staffette lungo le mura sarà uno spettacolo unico perché avremo proprio tutta la fascia delle mura medice coinvolta e una grande manifestazione richiama atleti dalla Toscana, un po' da tutto il centro Italia, quindi ci attendiamo, se il tempo ci assiste, un gran successo. Tutto si svolge attorno al parcheggio Pietri, è un modo concreto per promuovere l'attività dei servizi offerti dall'azienda che gestisce i parcheggi e avere questi numeri, quindi oltre 700 persone, quindi vuol dire anche un grande ingresso in città, per noi è un fatto positivo che sosteniamo, oltre che da un punto di vista etico e sportivo che fa bene, ma anche da un punto di vista della promozione dei servizi, che fa bene ad Atam. Lo sport ormai sta diventando un canale di promozione molto importante per Arezzo, il podismo in particolar modo, in questi anni ci sono state importanti manifestazioni che abbiamo sostenuto, ci sarà probabilmente una sorpresa per il 2020, ne abbiamo parlato dopo ieri con Fabio Sinatti dell'Unione Sportiera di Policiano, quindi c'è tanta attenzione, questa è la prima manifestazione del 2018, non è sicuramente l'ultima, non sarà l'ultima, è la prima di una serie di manifestazioni importanti, Arezzo corre tanto, corre in tutti i sensi, c'è molta partecipazione nel campo del podismo e l'amministrazione intende sostenere sempre di più questo tipo di eventi. Arezzo è ormai diventato un punto di riferimento grazie a questa società che organizza domenica questo evento e anche al Policiano che è un po' il traino di tutti gli eventi sportivi, quindi direi che è un bene per la città, un bene per lo sport e poi la partecipazione di tutti è il sistema migliore per coinvolgere proprio l'intera popolazione.